Ciclo continuo di spago. Questo giocattolo è un vantaggio per i bambini che soffrono di asma. Ti serviranno cannucce di qualità, una matita e dello spago di cotone. Taglia la cannuccia a metà. Pratica un buco al centro della mezza cannuccia. Poi ruota la matita per formare un buco regolare e rotondo. Prendi uno spago di cotone lungo 75 cm e tessilo attraverso in direzione del buco. Lega un piccolo nodo e taglia l'eccesso. Premi per appiattire il nodo. Ora soffia e con sorpresa potrai osservare che l'intero spago continuerà a ruotare e ruotare.